Buona giornata, bentrovati, appuntamento come di consuetudine con il nostro spazio informativo dedicato al mondo dello sport www.venetoglobe.com, la nostra web tv che vi fa trovare in qualsiasi momento in modalità on demand, tutti i nostri servizi, le nostre interviste, i nostri reportage. Ogni giorno invece sul Digitale Terrestre, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondente all'emittente televisiva Caffè TV 24, vi ricordo ogni giorno 19.40 in seconda replica nella seconda parte della serata e poi nella primissima parte della mattinata la terza ed l'ultima replica della giornata del nostro appuntamento sportivo. Iniziamolo il nostro appuntamento sportivo, lo iniziamo parlando di campionati europei di atletica leggera che andranno ad iniziare in Polonia venerdì europeo a squadre, mancheranno i due assi italiani Tortu e il saltatore Tamberi, ma sarà una nazionale, quella italiana, che ci stupirà. Nazionale maschile invece di Pallavolo a lavoro a Bari, è rimasta a Bari in questi giorni e dal 9 all'11 si terrà il preolimpico contro Camerun, Australia e Serbia cercando naturalmente le Olimpiadi di Tokyo. Olimpiadi di Tokyo trovate già dalla nazionale femminile di Pallavolo invece non si è spento ancora l'eco della vittoria delle Azzurre contro l'Olanda e la conquista anticipata, vi dicevo, delle Olimpiadi di Tokyo. Sentiamo nuovamente un servizio da cura della federazione e della Lega con Paola Egonu, sicuramente una delle migliori per quanto riguarda la nazionale italiana, una pantera. Sì, è stata una bellissima partita, veramente sono senza parole, emozionatissima e niente, adesso dobbiamo pensare a questo europeo e prossimo anno le Olimpiadi. Lo scorso europeo che abbiamo fatto ci mandarono fuori loro, quindi diciamo che è rimasto dentro. Tornando a casa, staccando la testa, cosa di cui tutti abbiamo bisogno e poi ripartire con il prossimo obiettivo in testa per tutte quante. È una Paola Egonu che cominceremo a conoscere meglio quando comincerà il ritiro dell'Imoco Volley Conegliano, è diventata una pantera quest'anno, è stata sicuramente una delle giocatrici più in forma e più decisive della nazionale in questo ultimo avvenimento, la conquista appunto delle Olimpiadi di Tokyo e adesso gli europei. Sempre per la pallavolo ho presentato il calendario della Superliga maschile che al Via avrà anche due Venete, Padova e Verona. Prima giornata si disputerà il 20 ottobre con Padova in trasferta a Modena, mentre Verona sarà in casa contro Sora. Apriamo la parentesi dedicata al calcio che incomincia sempre di più ad entrare nel vivo. campionato di Serie A al Via con il calendario che è stato già ufficializzato, una prima giornata che vi ripeto per quanto riguarda la partita forse clou sarà questa Fiorentina Napoli e poi la Juve va a Parma e l'Inter in casa contro il Lecce. Per le Venete o le Friulani o le Friulane Udinese in casa contro il Milan, mentre il Verona ospiterà il Bologna. Per quanto riguarda il calcio mercato, il Torino pensa alla formazione da schierare in Coppa contro il Soligorsk domani sera, mentre il mercato vede ancora in primo piano Lukaku richiesto nuovamente da Conte e dalla sua Inter. Lukaku è pedina non cercata soltanto dall'Inter ma anche dalla Juventus che lo vorrebbe per fare coppia con Cristiano Ronaldo e tenta l'ultimo assalto. Mentre Di Bala, l'altro juventino che sembra avere porte chiuse alla Juve, potrebbe andare al Tottenham. L'Inter, a proposito di porte chiuse, chiude le porte anche a Perisic dopo averle chiuse per Icardi e per Nainggolan. Al Milan non si sta meglio perché c'è questo nodo suso con il tecnico, con Giampaolo che non vorrebbe proprio cederlo, ma dall'amministrazione dicono a Giampaolo che bisogna fare soldi, bisognerebbe vendere qualcuno per cercare di portare a casa di accasare Correa, che sarebbe uno dei giocatori richiesti dallo stesso Giampaolo e voluti dalla dirigenza. Staremo a vedere quello che succederà. Intanto questa notte, intorno all'1.30 in ora italiana, andrà in campo il Napoli contro il Barcellona. Si gioca a Miami. La Serie B ieri sera ha svelato ad Ascoli Piceno in notturna il suo calendario, partenza fissata per il 23. In Serie B le Venete alla prima giornata si schiereranno così, Cittadella contro Spezia, poi ci sarà il Perugia che ospiterà il Chievo, mentre il Pordenone sarà in casa contro il Frosinone. Venezia che affronterà la Cremonese. Altre gare, Trapani Virtus Verona si è giocata, scusatemi, ed è terminata 2-1. Il Vicenza ha debuttato in Coppa a Reggio Calabria contro la Regina, che ha recuperato ed ha vinto per 3-2 dopo essere andata sotto. Il Pordenone, di cui parlavo in precedenza, oggi va in campo per un'ultima amichevole prima di dare il via al campionato e alla Coppa. Alle 18.30 giocherà a Portogruaro contro il Portogruaro. Completati i gironi della Serie C, girone B con Modena Vicenza, Triestina Gubbio, Virtus Verona Padova e Vispesaro Sud Tirol. Noi ci occuperemo naturalmente del campionato di eccellenza in particolar modo, con un campionato che vedrà il nuovo Treviso oggi affrontare a quinto, ma qui siamo nella promozione. A quinto alle ore 17.30 la primavera della Sampdoria, allenata dall'ex Trevigiano, scusate, dall'ex Trevigiano Cottafava. A Castello di Godega, questa sera alle 19 invece, esordio stagionale della Godigese, che affronta l'Istrana. Amichevole anche per il Giorgione. Giovedì, domani, altro incontro, questa volta contro la Luparense. Questo per quanto riguardava le serie minori. Per la Serie D, la Serie D inizierà regolarmente il primo settembre, Coppa Italia il 18 agosto, con i preliminari il 25 il primo turno, diciamo così. Un primo turno a cui sarà invitato il Montebelluna a giocare, esordirà proprio al primo turno domenica 25 agosto. Ricordiamo il basket, in A1 basket, il calendario vede la prima gara della TVB in casa il 25 settembre con la superfavorita Milano Armani, la seconda giornata invece in trasferta a Cremona e ritorno al Palaverde per la terza con Pistoia. Intanto in casa Treviso c'è la chiusura più o meno del roster, bisognerà vedere se servirà ancora qualcosa e arrivano le prime date o le prime certezze. Insomma, con prima amichevole il 23 agosto a Cormons alle 20.30 contro Trieste. Vi ricordo che il 4 settembre poi ci sarà un amichevole a Pieve di Soligo contro i campioni d'Italia, la Reier Venezia, che affronteranno appunto la formazione trevigiana del TVB. Per l'imoco volley di cui abbiamo parlato prima e dicevamo della Pantera Egonu, vi ricordo che c'è ancora da conoscere l'esatta partecipazione al campionato del mondo di Shang Tsai, Shaoxing in Cina. Si attende, si è atteso forse anche da parte dell'organizzazione, di vedere come andavano le ultime sfide per quanto riguardava le qualificazioni delle Olimpiadi e si attende, quindi attendono sia Novara sia Conegliano di sapere se saranno parte del campionato del mondo appunto in Cina. Gli abbonamenti stanno andando sempre con un boom e un aumento del 25%, già definite anche alcune amichevoli e definite anche il ritorno in campo a gennaio per tre pantere e cioè Asia Volosh, che qui vedete in triplice aspetto, e poi anche la splendida Queen, Robin de Cruyff e la nuova, la tedeschina Gertys, che dovranno giocarsi a gennaio la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, quindi dovranno scendere ancora in campo per cercare di andare a Tokyo con la loro nazionale. Lasciamo il volley e passiamo al rugby, i Leoni hanno nominato il loro nuovo capitano nella figura di Alberto Sgarbi, tre quarti centro ma all'occorrenza anche terza linea, 33 anni, tanta esperienza, 227 presenze fin qui collezionate che fanno di lui il leone in attività con più caps. In settimana si è parlato tanto di dottori, di fisioterapia, di preparatori atletici, noi ci ritorniamo su questo perché abbiamo capito che è una delle cose più importanti, è una delle cose più organizzate appunto in Benetton. Oggi Nicolò Valerio ai nostri microfoni. In questo momento diciamo che l'infermieria non è così piena, complice anche il periodo dell'anno senza le partite, chiaramente siamo riusciti a svuotare la maggior parte degli infortuni. In questo momento possiamo differenziare due gruppi all'interno degli infortunati a lungo termine, quelli che qua chiamiamo i giocatori retour to performance, che sono in totale in questo momento sette. Abbiamo appunto due gruppi, un gruppo di ragazzi che saranno pronti, quasi sicuramente a meno che non succedano altri inconvenienti, per l'inizio del campionato, per le prime partite del campionato e invece un gruppo di giocatori molto ridotto, sono un paio di giocatori che invece avendo avuto degli infortuni più importanti, avendo subito gli interventi più importanti, necessitano ancora di qualche mese di riabilitazione prima di poter rientrare in campo con la squadra. È una grande organizzazione questo, perché per fare tutto questo bisogna essere organizzati, non è che ci si inventa. Assolutamente, questi buoni risultati a livello numerico sono supportati da un'organizzazione importante. Tutto lo staff medico collabora in maniera assidua a programmare il percorso l'abilitativo. Chiaramente nello staff medico ci sono i dottori, ci sono i fisioterapisti, i preparatori, i atletici. C'è questa area richiamata retour to performance che è dedicata al 100% a questi giocatori che hanno subito degli infortuni che li tengono lontani dal campo per più di due o tre settimane. Quindi assolutamente i ragazzi sono seguiti in maniera precisa, organizzata e monitorata. Già i ragazzi ce lo dicono, grazie ai fisioterapisti, grazie ai dottori siamo in campo nuovamente, ma qual è la soddisfazione per voi? Vedere un giocatore recuperare al 100%? Sì, assolutamente la soddisfazione è vedere il giocatore potersi esprimere al massimo delle sue potenzialità e aggiungerei anche vedere il giocatore poi stare in campo a lungo. Diciamo che una cosa che siamo riusciti a raggiungere in questi ultimi anni di lavoro è proprio la riduzione drastica del numero delle recidive. Quindi sostenuti anche da uno staff tecnico e dalla dirigenza che ci lascia abbastanza carta bianca, riusciamo ad ottenere dei buonissimi risultati in termini appunto di riduzione delle recidive perché il giocatore rientra in campo effettivamente nel momento in cui è pronto. Deve superare determinati test, avere certi parametri che poi gli consentiranno di esprimersi al massimo delle sue potenzialità ma anche con un grado di sicurezza elevato diciamo. Bene, questo Nicolò Valerio, uno dei fisioterapisti del Benetton e proprio alla Ghirada si va verso le cosiddette ferie, la seconda parte insomma di ferie per i giocatori e per lo staff, si fermeranno a fine settimana, riprenderanno con molta probabilità dopo Ferragosto il 19 la salita a Calalzo per un altro turno di allenamenti differenziati ulteriormente come abbiamo parlato nei giorni scorsi con gli altri fisioterapisti, con gli altri preparatori atletici. Una Ghirada che quindi si è svuotata se un paio di settimane fa c'era un afflusso incredibile, c'era il meglio del rugby internazionale europeo in questo caso perché c'era Benetton, i Leoni, c'era la nazionale italiana, c'era la nazionale inglese, ecco a proposito della nazionale inglese, anche la nazionale inglese ha lasciato in queste settimane, in questa settimana la Ghirada, ci ritornerà dal 28 agosto al 5 di settembre. In pratica queste sono tra l'altro delle immagini che la federazione inglese ha fatto pervenire per gli allenamenti e per le sedute di allenamento tenute appunto alla Ghirada, qui li vedete tra l'altro in alcune giornate caldissime ed affose che a Treviso hanno dato proprio l'impronta di quello che potrebbe essere il clima affoso e terribile di Tokyo, cosa che lo staff tecnico appunto dell'Inghilterra voleva trovare e cercare anche a Treviso, sono stati accontentati. Noi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani, altra pagina, altre pagine, altre notizie, sempre per quanto riguarda lo sport. Grazie a tutti.